Musica Benvenuti ragazzi sono oggi con una nuovissima serie sul mio canale Nuovissima Cappuccino News E in pratica questa serie è la serie che fa Fade Drag Penso sia la prima in Italia perchè sono solo io l'unico figlio di puttana che copia tutti Esatto E in pratica questa serie consiste in Hittare con tutti i cecchini di un determinato code In 5 minuti Oggi siamo su B2 quindi abbiamo DSR, Ballista, Suas e XPR Abbiamo 5 minuti, qua c'è il timer Lo avviamo subito così intanto possiamo già iniziare a parlare Tutto in live, 3, 2, 1, via E nulla, secondo me è una serie molto 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 divertente e bella da vedere Perchè soprattutto vedi la skill del player a giocare Ovviamente in privata perchè fare una roba del genere online Cominci a fare una roba del genere online abbastanza Non dico impossibile ma dico complicata E in pratica si vede la skill del player a giocare sia l'abilità nel commentary, nel commentary live di questo ragazzo Ok che è un prodigio Subito seconda classe Ballista Tipo una roba del genere Caruccia Oh mica neanche mezzo reggettato con la prima classe è buonissimo Subito anche con la seconda magari è anche meglio E nulla Cioè se Non sono caduto Non sono caduto Oh No l'XPR no Cioè non Non mi va di fare lo svuos Andiamo prima all'XPR Che con l'XPR non c'ho tanta Cioè con lo svuos non c'ho tanta domestichezza Non sono caduto E nulla ragazzi Cercherò di portarvi sempre nuovi video Nuove serie più che altro C'è un'altra serie che sto pensando di fare Road to Floater In pratica il floater E tipo Avete presente Ho detto tipo tantissime volte Avete presente Bodo all'inizio proprio Quando voi giocavate Cioè quando voi quando Oh ok Quando c'era la killcam finale Quando voi sparavate la killcam finale Non Non riesco a fare un discorso Quando voi sparavate Cioè con l'ultimo avversario Rimanevate in volo Tipo Bodo 1 E in pratica dopo una patch Dopo una patch l'hanno tolta sta cosa di Subbo 2 Quindi tipo cadi Però tipo si può disattivare la patch E giocare ovviamente il locale E rimani in volo Se hiti E quindi E' abbastanza figa da fare come cosa E pensavo di farla Ovviamente tutto il live In webcam che lo fa Obi Blazigen Che è tipo La mia inspiration Bellissimo E Cosa potrevo parlarvi anche di Che clan mi piacciono Allora ultimamente I faze non mi stanno piacendo tanto Perché tipo Gli episodi che fanno uscire Non mi piacciono Tipo in alcuni Ho visto clip Che addirittura io Non li userei Cioè per farvi capire che schifo Cioè già c'ho gli standard di merda Poi vedo clip che non Ma boh Non so perché l'hanno usate sinceramente Soprattutto adapt Boh Però ovviamente le feed sono tipo Bravissimi Sono magici Mentre Trickshot Mi piacciono tantissimissimissimo I Genesis Tipo i Genesis Penso sia Il clan migliore Ok Intanto Penso sia il clan migliore Al mondo Ora come ora Dei trickshot Ci sta uno Che è tipo la mia inspiration Che si chiama Genesis Retract È uno dei player Più complex Che ho mai visto Su Mv2 Oh Ho finito Oddio Non pensavo di fare tutto Cioè oddio ragazzi Terminiamo Ragazzi il video è finito Cioè ci sono rimasto male anch'io In pratica Se volete fare la La response Diciamo Se volete Rispondermi anche voi Con questa serie particolare Fatelo pure Basta che poi mi linkate il video Qua tipo Il video è uscito un po' Il trick è uscito un po' La merda Comunque spero che vi sia piaciuto Sia il video che l'idea Lasciate un bel mi piace Un bel commento A 200 like E continuo la serie Ci vediamo venerdì Con i top 5 Da Gioe E tutto Bella